Un aspetto importante che è stato messo davanti sin dall'inizio è il fatto di permettere il più possibile anche l'autocostruzione e questo ha fatto sì anche quello di scegliere questi materiali. Grazie a tutti. 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 qui sono sopra, al terzo piano qui sono inattuali qui però dal punto di vista normativo è un'area d'altra distanza i quali in Italia non ce l'ho fatto ma le fondamenta non ce l'ho fatto il fondamenta qua ha tutto stricimento questo si chiama questa robina qui pesa 13 tonnellate una festa a capello che ci abita un'artista per chi ha voluto una cugola, il legno e il cristallo che pesa 13 tonnellate scopra il terzo piano e la festa è d'acqua e la festa è d'acqua Grazie a tutti 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 Grazie a tutti